Salve a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con special program in versione Spectrum 48K, quello che vedremo oggi è il numero 30 uscito nel febbraio 1987. Vi ricordo che sulle nostre pagine Facebook, Youtube e Twitch abbiamo anche la controparte dedicata al Commodore 64 di cui si occupa Roberto Piredda. Lo potete seguire in diretta live streaming ogni lunedì a partire dalle 22 e 30. Come sempre trovate tutte le info in descrizione. E andiamo a vedere i giochi in elenco proposti in questo numero 30. Apriamo con Genesis e a seguire Wanaga, Steel Sphere, Dragon's Land, Remote Planet, Princess Kiri, Traffic, Snake Mantine, Mystery Machine e a chiudere Akamantor. Carissimi amici, eccoci ancora qui per decantare il video. Per decantare le tremende capacità di quello scatolino che è il vostro bellissimo Spectrum, ora uscito anche in Italia in versione 128 Plus 2. I programmi sono effettivamente compatibili anche con questo mega computer. Vedremo in futuro se includere programmi tutti per 128K. In questo numero di special programmi trovate nell'ordine Genesis, Wanaga, Steel Sphere, Dragon's Land, Remote Planet, Remote Planet, Princess Kiri, Traffic, Snake Mountain, Snake Mountain, Mystery Machine e Akamantor che chiude anche questo numero 30. belli se non credete perché non giochiamo. E carichiamo il primo dei giochi proposti ovvero Genesis. Molti anni fa una civiltà molto avanzata tecnologicamente fu obbligata a evacuare la terra prima dell'era glaciale. Ora queste hanno intenzione di ritornare a reclamare la loro eredità con la forza. Controllando il tuo super velivolo spaziale devi difendere la terra dall'invasione di queste popolazioni. Volando in una missione di ricerca e distruzione devi sorvolare il territorio, bombardando le trincee nemiche e distruggendo i bersagli aerei che entrano nel tuo campo visivo. Ma guardati dagli specchi volanti, impossibili da distruggere perché una collisione rappresenta morte certa. Sopravvivendo ondata dopo ondata agli attacchi nemici controllerai l'offensiva e potrai riuscire a distruggere l'astronave madre Andor Genesis controllando il reattore centrale. Ma a questo punto non dovrai sentirti al sicuro perché l'offensiva nemica aumenterà la sua determinazione nel combatterti. Apriamo questa rassegna con la conversione del ben noto coin op Xevius, a suo tempo sviluppato e pubblicato da Namco nel 1982. Il gioco è uno sparatutto a scorrimento verticale nel quale il giocatore controlla un veicolo da combattimento aereo che deve fronteggiare schiere di astronavi aliene. La battaglia si svolge sopra un'ampia foresta. I nemici appaiono nella parte alta dello schermo e possono distruggere il nostro aereo sparandogli o speronandolo. I mezzi di offesa a disposizione sono una riserva illimitata di missili terra aria e delle bombe che è possibile sganciare utilizzando un mirino posizionato di fronte tenendo premuto il tasto di fuoco. Un altro pericolo è rappresentato da postazioni fisse sparse sul territorio che si sorvola. Queste possono abbattere l'aereo che controlliamo tramite dei missili terra aria. Non tutte le postazioni a terra rappresentano comunque dei pericoli, ma spesso quelle inoffensive servono ad ingannare e coprire le postazioni realmente pericolose. Ad intervalli regolari appare un'astronave madre aliena che deve essere distrutta piazzando una bomba in maniera adeguata. Una volta eliminata la missione continua ma con nemici sempre più cattivi ed agguerriti. Pubblicato nel 1987 dalla US Gold venne rilasciato anche nelle versioni Commodore 64, Amstrad, CPC, Atari 7008 e NES. E questo era Genesis, primo dei giochi proposti per questo numero 30. Passiamo al secondo. E il secondo dei giochi proposti è Wanaga. Siete re della giungla e come tale avete il diritto, dovere, di controllare che tutto prosegua secondo i vostri ordini, ma vi siete innamorati di una certa Jane e la cercate per tre giorni. Il tempo passa rapidamente e ogni volta che siete ferito o ostacolato il cronometro diventa più veloce. Prima di liberare Jane dovete recuperare sette gemme sparse negli schermi. Portatevi dietro scimmie, funi, torce, scudi e pietre solari. Potrebbero esservi utili anche se non potete portarveli tutti insieme. E vi ricordo il nome originale di questo gioco che è Tarzan. Il gioco si ispira alla leggenda di Tarzan, tratto dai romanzi dello scrittore americano Edgar Rice, in cui sono narrate le vicende del re della giungla. Il giocatore controlla Tarzan, che si muove nei meandri di una giungla ostile con l'obiettivo di recuperare in soli tre giorni dei preziosi diamanti che serviranno a liberare la sua amata Jane, tenuta prigioniera da una tribù indigena. Nella sua ricerca può inizialmente contare solo sulla sua forza e agilità. Il joystick permette ben dieci movimenti, più la possibilità di raccogliere e abbandonare oggetti che possono essere trovati in diverse locazioni. Oggetti utili da recuperare sono sicuramente una corda con la quale è possibile saltare grosse buche e una torcia da utilizzare nelle zone più buie. Lo scenario è molto vasto, in totale sono presenti 250 schermi. Nella sua missione di recupero Tarzan può contare anche sui suoi pugni per difendersi da eventuali attacchi dei nativi e dai pericoli costanti rappresentati da animali come tigri, serpenti e ragni pronti ad attaccare all'improvviso. Lo scontro diretto con un nemico causa la perdita di energia e una accelerazione dello scorrere del tempo. Il gioco termina allo scadere dei tre giorni oppure all'esaurirsi delle tre vite a disposizione. Oltre a tutti gli imprevisti presenti, la difficoltà principale rimane la giusta via perlustrando tra arbusti e pietre. E' consigliabile pertanto l'utilizzo di una mappa. Pubblicato nel 1986 da MarTech Games, venne rilasciato anche nelle versioni Commodore 64, Amstrad CPC e BBC Micro. E questo era Wanaga, procediamo con i caricamenti. E carichiamo il terzo dei giochi proposti, ovvero Steel Sphere. Nel futuro l'umanità si entusiasmerà per un nuovo gioco a squadre, Steel Sphere. Voi come manager di una delle due squadre finaliste avrete la possibilità di scegliere tre tra i vostri 10 uomini per battervi contro la squadra avversaria e vincere così il massimo premio in ballo per questo gioco, la Supercoppa di Odino. Scegliete attentamente i vostri giocatori in base alle loro abilità e alle loro caratteristiche e completata la selezione, attendete la fanfara per entrare in campo con la vostra squadra. Fate attenzione perché i componenti di questo gioco si muovono con dei jetpack e non è semplice manovrarli. Dopo pochi secondi dalla presa di posizione dei giocatori la palla sarà lanciata in campo e afferrando il bastone a cui è attaccata dovrete lanciarla in un bersaglio mobile per fare punti. Anche i vostri avversari sono molto abili, ma dovrete fare del vostro meglio per batterli. Riuscirete a impossessarvi della coppa? E vi ricordo il nome originale di questo gioco che è Hypeball. Hypeball Siamo sul genere arcade action per quello che è il terzo dei giochi proposti su questo trentesimo numero di special program in versione Sinclair. Come abbiamo letto in precedenza sulla rivista si tratta di una competizione agonistica di tipo sportivo futuristico in cui due squadre composte da tre giocatori ciascuna si affrontano. La prima fase consiste nello scegliere i tre giocatori da una rosa di dieci che andranno a comporre la squadra che scenderà in campo. Per ogni giocatore, oltre al nome, l'età e l'altezza, sono disponibili tre parametri sui quali bisognerà basarsi per creare una situazione bilanciata, ovvero forza, agilità e velocità. Effettuata la scelta dei giocatori la partita a inizio. Scopo del gioco è riuscire a mandare una palla in un canestro disposto al centro del campo. Purtroppo il canestro è attaccato a un'asta su cui sale e scende di continuo e la difficoltà sta proprio nel riuscire a imbucare la palla. La particolarità sta nel fatto che due giocatori sono sospesi per aria e si muovono tramite dei jetpack, mentre uno è sul campo di gioco. Una volta raccolta, la palla può essere trattenuta per soli due secondi e mezzo, entro i quali dovrà essere passata o tentare il tiro a canestro. Un elemento divertente è la presenza di cheerleader meccaniche che compaiono tra una partita e l'altra, mentre nel finale viene visualizzata la testata di un giornale sportivo che declama la vittoria o la sconfitta. Unica nota negativa è probabilmente l'impossibilità di competere in un torneo. Si gioca infatti una sola partita. Pubblicato da Odin Computer Graphics nel 1986, venne rilasciato anche in versione Commodore 64. E questo era Steel Fear. Proseguiamo con i caricamenti. E carichiamo il prossimo gioco, Dragon's Land. Un famoso e indomito eroe dello spazio è di nuovo chiamato a salvare la Terra. Un orribile gruppo di mostri sta insidiando la sopravvivenza del pianeta Dragon. Il nostro eroe ha molto coraggio, ma gli serve anche tanta fantasia per continuare ad andare avanti, vivo, in questo gioco che è un misto di arcade-avventura. Seconda conversione arcade per questo numero 29. Abbiamo qui la versione Spectrum di Space Harrier, pubblicato da Siga nel 1985. Il genere è lo sparatutto a scorrimento. Il giocatore controlla un soldato, ultimo sopravvissuto di un corpo militare ormai estinto, che da solo deve contrastare una razza aliena determinata a prendere possesso di un piccolo pianeta ai confini dell'universo. Il soldato in questione è armato solo di un potente laser e deve attraversare il pianeta e ripulire le dodici principali città da ogni segno di ostilità. Ogni città presenta diversi scenari e pericoli differenti. L'azione di gioco è abbastanza fluida. Purtroppo però, come spesso capita sullo Spectrum, il comparto grafico monocromatico non aiuta granché. Spesso le collisioni con i nemici sono inevitabili, a causa della difficoltà nel distinguere i molteplici elementi grafici che si muovono a velocità elevate. A suo tempo le critiche non furono positive. Molte testate autorevoli lamentarono il fatto che fosse una conversione incompleta e che si sarebbe potuto sicuramente fare di meglio, considerato che la software house in questione era la stessa di Commando. Pubblicato da Elite Systems nel 1986, venne rilasciato per numerosi sistemi HOM, tra cui Commodore 64, Amstrad CPC, BBC Micro, NES e SIGA Master Systems. E questo era Dragon's Land, passiamo al prossimo gioco. E andiamo a caricare il quinto dei giochi in elenco, Remote Planet. Aiutate il tenente Ripty a salvare la sua base e l'equipaggio del Commandos a lei affidato in una missione suicida. Potete farlo stando ben attenti ad adoperare l'equipaggio che ha specifiche competenze. Ripty è il capo, Gobban è un vero mastino, Rick ha un talento per le situazioni difficili, Vasco è velocissimo, Pedro non conosce lo stress e Bucco è un po' venale. Avete comunque sempre davanti agli occhi il quadro di controllo che vi ritrasmette le immagini riprese da una videocamera posta sugli elmetti. Sul video vedete anche il tipo di armamento scelto, il personaggio in azione, lo stato di stress dell'equipaggio, il livello d'armamento, il numero della stanza dove potete trovare i membri del vostro equipaggio e i vari punteggi. E il nome originale di questo gioco è Aliens the Computer Game. Questo gioco si rifà ad una ben nota saga cinematografica, quella di Alien, in cui si narrano le gesta del tenente Ellen Ripley in continua lotta con una razza aliena ostile e pericolosa per il genere umano. Il giocatore controlla Ripley e la sua squadra, i quali vengono mandati ad investigare sul pianeta dove in precedenza è avvenuto il primo contatto con gli alieni. Qui a suo tempo vi si stabilirono dei coloni di cui a un certo punto si persero le tracce. Ogni personaggio si controlla tramite una videocamera che dà la vista in prima persona dell'ambiente circostante. Ci si muove attraverso una serie di stanze e corridoi collegati da porte che possono essere aperte, chiuse o distrutte. Ovviamente una porta distrutta rappresenta un pericolo in quanto non offrirà più alcuna protezione contro gli alieni. Questi a loro volta si lasciano dietro depositi biomeccanici che devono essere prestamente eliminati in quanto, essendo soggetti a crescita, possono bloccare le entrate e generare uova e di conseguenza nemici sempre più pericolosi. Per aprirsi la strada tra i depositi biomeccanici e per distruggere porte e alieni si usa un mitra. Gli alieni si uccidono assestando un colpo alla testa oppure diversi colpi al corpo. L'utilizzo delle armi deve essere comunque controllato in quanto le munizioni non sono infinite e per rifornirsi bisogna avventurarsi fino all'armeria affrontando un viaggio lungo e pericoloso. Il compito di Ripley è attraversare la base con più uomini possibili, raggiungere la camera di procreazione della regina aliena ed ucciderla. Bisognerà inoltre difendere alcune zone vitali come l'armeria che fornisce munizioni, la stanza di controllo che fornisce illuminazione e la stanza dei generatori che forniscono energia elettrica. Senza queste sarà molto difficile riuscire a portare a termine la missione. Pubblicato nel 1986 da Electric Dreams Software, venne rilasciato nelle versioni Commodore 64 e Plus 4, Amstrad CPC ed MSX. E questo era Remote Planet, andiamo a vedere il prossimo dei giochi proposti. E carichiamo il sesto gioco in elenco, Princess Kiri. Racconta la leggenda che la principessa Kiri venne rapita da un perfido mandarino e che solo il coraggio del guerriero ninja la salvò. Aiutate il ninja a cercarla nel palazzo del nemico. Nel primo schermo dovete battere 10 avversari, poi penetrate nel palazzo del nemico, battete altri 10 nemici e scalate la muraglia seguendo la direzione indicata. Quindi dopo aver battuto l'odiato mandarino, liberate la principessa. Ma non è facile. Ancora una conversione arcade per questo numero 30. Questa volta abbiamo la versione Spectrum di Legend of Cage, sviluppato da Taito e pubblicato nel 1985, convertito poi per numerosi sistemi home. Ambientato nell'antico Giappone, il giocatore controlla un ninja impegnato a salvare una principessa che all'inizio del gioco viene rapita e portata in una fortezza dove verrà tenuta prigioniera. Il protagonista deve prima attraversare una foresta con alberi molto alti e poi arrivare in cima alla fortezza. Le armi a disposizione sono una spada corta e le classiche stelle ninja, meglio conosciute come Shuriken, che utilizzerà per affrontare orde di nemici onnipresenti. Lo scenario bidimensionale è mostrato con visuale laterale a scorrimento in tutte le direzioni. Il protagonista può fare salti molto ampi e arrampicarsi in verticale sui tronchi degli alberi. Ha una dotazione illimitata di Shuriken che si possono sparare in tutte le direzioni, mentre a distanza ravvicinata usa la spada. I nemici arrivano dai lati o piombando dall'alto armati di bastoni o in alcuni casi di Shuriken. Per superare la foresta bisogna eliminare un certo numero di nemici di determinati tipi che compaiono progressivamente. Di seguito si passa alla fase successiva di fronte alle mura della fortezza e anche qui bisogna eliminare un certo tipo di nemici per proseguire. La fase finale vede il protagonista impegnato a risalire le mura della fortezza per poi attraversare l'intero edificio fino a giungere al luogo in cui è tenuta prigioniera la principessa. Pubblicato nel 1987 da Imagine Software venne rilasciato nelle versioni Commodore 64, Amstrad CPC, MSX e NES. E questo era Princess Kiri, proseguiamo con i caricamenti. E abbiamo uno short play per quello che è il settimo dei giochi proposti, ovvero Traffic. Siete alla vostra prima prova da vigile e l'alto comando vi ha mandato in pieno centro a dirigere il traffico caotico delle ore di punta. L'incrocio diventa ogni momento che passa più difficile da governare con le macchine che vogliono andare dove capita e dove non vorrebbe il codice stradale. A proposito, potete scegliere la circolazione a sinistra o destra a seconda che vogliate seguire il codice anglosassone o euroamericano. Comunque sia, state ben attenti ad evitare ingorghi. In questo caso le auto cominciano a lampeggiare e potete finire a dirigere il traffico in periferia davanti a una scuola per bambini. Il nome originale del gioco è Sbugetti Junction e venne rilasciato nel 1986 dalla Bug Bite Software nella sola versione Spectrum. E a seguire abbiamo un altro short play, ovvero Snake Manta in ottavo dei giochi proposti che in originale trovate con il nome di Masters of the Universe. Siamo all'interno della terrificante montagna dei serpenti. Il nostro eroe ha un obbligo. Deve penetrare nel castello del nemico e distruggere la pietra magica che gli dà la forza. In aiuto all'eroe può giungere un piccolo alchimista che deve prima essere trovato e poi messo in condizione di fare una pozione magica con degli ingredienti che voi gli fornirete. Pubblicato da US Gold nel 1987 venne rilasciato anche in versione Commodore 64. E carichiamo il penultimo dei giochi proposti ovvero Mystery Machine. In un terribile castello il personaggio principale di questo gioco si decide a cercare i suoi compagni. Ha però l'impressione di non essere solo. Fantasmi e demoni vari gli appaiono da tutte le parti impedendogli la ricerca degli amici. Il nostro eroe è però di quelli tosti e nulla gli fa paura. E vi ricordo il nome originale di questo gioco che è Scooby-Doo. Il penultimo dei giochi proposti vede come protagonista un personaggio animato creato da Anna e Barbera sul fine degli anni 60 il cane Scooby-Doo. Il genere è quello arcade action e vede protagonista il simpatico cane che dovrà avventurarsi in un castello pieno di insidie per liberare gli amici tenuti prigionieri da un professore pazzo. Ci sono quattro livelli di gioco e in ciascun livello si trova uno dei membri del gruppo imprigionato in una provetta. In ognuno dei livelli Scooby si imbatte in nemici agguerriti, ben determinati ad impedirgli di liberare i suoi amici. Questi sono tutti controllati dal professore in persona. Nel primo livello incontra fantasmi che saltano fuori da porte chiuse e che spaventano a morte il povero cane, seguiti da figure incappucciate che gli si avvicinano furtivamente cercando di spaventarlo a morte. Per difendersi Scooby può contare solo sulla forza delle sue gambe con le quali può far volare via gli spettri. Per colpire deve rimanere fermo, se lo toccano prima loro sviene dalla paura e perde una vita. Sono in tutto 6 a disposizione. È possibile recuperare una vita raccogliendo sul pavimento uno Scooby Snack. Proseguendo nei livelli incontrerà nuovi nemici che saranno sempre più agguerriti e pericolosi. All'inizio di un nuovo livello Scooby guadagna una vita. Il gioco si presenta con un'animazione abbastanza fluida e accurata e lo scorrimento dello schermo anche sullo spectrum è abbastanza gradevole. Il gioco si rifà molto bene alla serie televisiva con tutti i suoi personaggi. Pubblicato da Elite Systems nel 1986 venne rilasciato anche nelle versioni Commodore 64 e Plus 4 e Amstrad CPC. E questo era Mystery Machine. Andiamo avanti. E andiamo a vedere l'ultimo dei giochi proposti ovvero Akamantor. Non fatevi impressionare dai colori di questo gioco. Non è così terribile come sembra. È solo un po' difficile da portare avanti tra dragoni, missili, magie e golem. In poche parole gettatevi allo sbaraglio cercando di trovare anche voi la principessa fatta prigioniera badando bene a non farvi toccare dai demoni e dai dragoni. Una mano ve la può dare il golem. uno stranissimo amico che va trattato con i guanti bianchi. E vi ricordo il nome originale anche di questo gioco che è Druid. Chiudiamo questo trentesimo numero con il genere Arcade Adventure nel quale il giocatore controlla un druido che deve liberare il mondo dal male. Quattro teschi dal potere oscuro sono stati posizionati in una torre e la loro aura di distruzione si diffonde anche grazie al potere di amplificazione della torre. Il druido deve distruggere i teschi per contrastare il dilagare delle forze maligne. Per farlo dovrà addentrarsi nella torre, sconfiggere i demoni, distruggere i teschi e poi trovare una via di fuga. L'azione è in vista isometrica con scorrimento multidirezionale. I schermi sono collegati tra di loro e contengono muri o siepi in aperta campagna che si combinano per creare labirinti. I nemici si aggirano costantemente in ogni luogo e devono essere eliminati rapidamente. Un contatto indebolisce l'energia del druido e più a lungo rimane in un posto più i demoni sopraggiungono inesorabili. L'azione è in vista isometrica con scorrimento multidirezionale. Gli schermi sono collegati tra di loro e contengono muri o siepi in aperta campagna che si combinano per creare labirinti. I nemici si aggirano costantemente in ogni luogo e devono essere eliminati rapidamente. Un contatto indebolisce l'energia del druido e più a lungo rimane in un posto più i demoni sopraggiungono inesorabili. Il druido dispone del potere di lanciare incantesimi elementali acqua, fuoco ed elettricità tramite la pressione del tasto di fuoco. E' possibile alternare le magie premendo il tasto P. Ogni volta che viene lanciata una magia si riduce il contatore sotto la rispettiva icona. E' molto importante selezionare il tipo di magia più appropriata in base al tipo di nemico che si sta affrontando. Oltre quelli elementali il druido dispone di quattro incantesimi extra attivabili solo se disponibili tramite i tasti da 1 a 4. Il primo incantesimo contrassegnato come chiave apre le porte. Il secondo è quello dell'invisibilità. Il terzo evoca un golem come assistente. L'ultimo è una bomba magica che distrugge tutti i nemici presenti sullo schermo. Quest'ultimo si rivela abbastanza potente da distruggere uno dei teschi e al tempo stesso rifornisce di energia il druido ogni volta che viene lanciato. Pubblicato da Firebird Software nel 1986 venne rilasciato nelle versioni Commodore 64 Atari 8-bit e Amstrad CPC E questo era l'ultimo dei giochi proposti per questo numero 30. Possiamo andare a chiudere. Ed anche per questo numero 30 in versione Spectrum è tutto. Vi ricordo che ogni giorno siamo attivi con informazioni dirette live e rubriche sulla pagina Facebook Gameplay Retro Games World. Colgo anche occasione per invitarvi ad iscrivervi ai nostri canali YouTube e Twitch. Per il momento è tutto. concludo augurandovi buon divertimento con i vostri retrosistemi ed emulatori preferiti e vi do appuntamento al prossimo numero di Special Program sempre in versione Spectrum 48K. Grazie e arrivederci.